Sì grazie, grazie Luca per la linea, hai detto bene vicino a me c'è proprio il tecnico della formazione giallorossa Paolo Rachini che ringrazio e saluto, come un saluto anche ad Andrea Berardinelli, nostro tecnico. Un derby d'alta quota si diceva dallo studio perché entrambe le formazioni, Notaresco che giocherà in casa e Francavilla sono appaiate al terzo posto in classifica, insomma c'è in ballo anche il primato se vogliamo regionale perché siete le migliori squadre del girone tra le abruzzesi. Sarà sicuramente una partita bella, questo lo diciamo noi, perché si affrontano due squadre che hanno un'idea di gioco lo diciamo sempre noi, quindi senza troppi tatticismi. Sarà così Rachini? Sicuramente sarà una partita equilibrata come l'ho stato anche all'andata, due squadre che sono in salute due squadre che sono me stanno facendo molto bene, quindi penso che ci sarà un bello spettacolo da vedere. Sicuramente varrà il collettivo perché si gioca di squadra nel calcio, però sarà anche sfida tra Bomber, da una parte Minella e dall'altra il vostro Dos Santos, entrambi vice capocannonieri di questo girone con 15 reti. Sì, ma come hai detto tu a me piace sempre parlare di collettivo perché poi alla fine quando arrivano i risultati vuol dire che si sta facendo bene tutti insieme. È normale che adesso Dos con noi e Minella con loro sta sfruttando il lavoro fatto dalla squadra, quindi stanno facendo veramente tante cose importanti. Ripeto, la gara non sarà semplice perché il notaresco, come hai detto tu, ha un'idea di gioco. È una squadra che dà intensità, è un allenatore molto preparato, quindi è una partita difficile. Un allenatore preparato che Paolo Raghini conosce bene perché ci ha giocato a fianco per quattro anni, credo, quattro stagioni nel Salerno. Abbiamo giocato quattro, cinque anni, gli anni d'oro della Salernitana. Abbiamo iniziato insieme dalla C1 e poi dopo quattro, cinque anni ci siamo ritrovati in Serie A. Quindi è un ragazzo che stimo tantissimo. Eramo come fratelli, stavamo qua sempre insieme, quindi è una persona, più che l'allenatore rispetto veramente Cudini, ragazzo che è veramente eccezionale. Poi come allenatore, non lo devo dire io, sono i fatti che dimostrano che Mirko veramente sta facendo qualcosa di importante a San Nicolò. Saramo Francavilla al gran completo nel senso, è rientrato per uno spicchio di partita domenica scorsa Cosmo Palungbo, uno dei vostri punti fermi, ce la farà giocare dal primo minuto o deve ancora decidere il tecnico? Ma guarda, si stanno allenando bene, quindi vuol dire che mi stanno mettendo in grosse difficoltà. Vengono da infortuni abbastanza lunghi, però ripeto, li sto vedendo bene, quindi ci sono ancora due o tre giorni, però le possibilità ci sono anche di vederlo dall'inizio. Ovviamente adesso vediamo questi due allenamenti, lo stesso Caffiero che comunque sono due settimane che si allena con la squadra, sta recuperando, quindi vedremo. Ripeto, l'importante è che dopo tanto tempo si recuperano questi pezzi, diciamo, importanti. Per il rush finale. Per il rush finale, sì, quindi è una buona cosa che ritroveremo tutti a disposizione. Bene, grazie, grazie di cuore a Paolo Rachini, grazie anche a Andrea Berardinelli. A questo punto la linea può tornare allo studio.